Oggi 8 settembre, la Chiesa ricorda la nascita della Beata Vergine Maria, anche l'Associazione Luisa Piccarreta, seguendo l'insegnamento della Chiesa, vuole ricordare la nascita di Maria alla luce del volere del Padre. Maria è stata generata da un parto trinitario, è uno sbocco dell'amore generativo delle tre divine persone. Questo parto ci manifesta l'aspetto fondamentale della maternità di Maria. Nulla entra in Dio se non è parto di esso, parto divino da cui è scaturito un parto dopo parto tutta l'umanità. Con la nascita di Maria si riaprono le porte dell'Eden celeste, quello che chiuse la porta la prima Eva, la donna che respinse i doni ricevuti dall'alto al momento della creazione e chiuse la comunicazione tra il sole e la terra, il rapporto tra il creatore e la creatura, nonché la vita comunicante con l'intera creazione. Il ricordo della nascita di Maria porta all'umanità la gioia e l'attenzione dell'atto presente di Dio. Il Signore è eterno e tutti i Suoi atti, anche se tutti si concentrano ognuno solo, sono eterni e vanno contemplati nell'onnivegenza come atto presente. L'atto presente di Dio fa contemplare la nascita di Maria sempre presente e fa godere la bimba Maria che, quale aurora divina, fa spuntare dall'alto il sole della divina volontà. Nascendo Maria, nascono con lei tutti i beni celesti che lei fin dal concepimento possiede. Essi sono pace, amore, potenza, forza, bellezza, di spirito, piccolezza e tanto altro e tutti hanno la capacità di trasmettere a beneficio delle umane generazioni. Questo lo possiamo attingere da Gesù stesso nel brano 31. Figlia mia benedetta, la nascita della mia mamma Maria, la mamma celeste, racchiude tutte le meraviglie, tutti i prodigi insieme. Non nasceva solo lei, la mia mamma, la pura, la santa, la bella, l'immacolata, no, no, ma insieme con la celeste bambina nasceva in lei la mia divina volontà, concepita già e racchiusa in lei per formare la sua vita operante e crescente nella graziosa bambina. Quello che fece stupire e che richiamò l'attenzione di tutti fu la mia volontà che nasceva insieme con lei nel mondo intero, tanto che cielo e terra rimasero scossi. Tutti gli altri prodigi accentrati in essa erano un nulla, ma la nascita della mia mamma li racchiude tutti, dando la luce della divina volontà. Il no della prima Eva chiusa le porte del cielo a causa dell'inimicizia e causò l'inimicizia tra il creatore e la creatura. Maria ha raccolto tutto quello che Eva aveva rifiutato per dare gloria al creatore e far rientrare l'uomo nello stato d'origine per cui fu creato. Maria riporta l'umanità nel principio e nello scopo per cui l'uomo fu creato. In Maria traspare la luce del volere trinitario come fuggi di raggi e parlano di Dio, parlano ai fratelli lontani e vicini, ai santi che sono in cielo e sulla terra, in forza della potenza della divina volontà che possiede. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che vivono la mia volontà. Dalla nascita di Maria nasceva insieme la divina volontà come vita propria e quindi l'abbiamo attindata a Gesù stesso, nel volume 31. Oggi è la festa mariana del tutto all'interno dell'uomo. E' una festa mariana interiore dove lo Spirito Santo, con la sua grazia, rinnova all'interno dell'uomo per mettere in ordine ciò che ognuno di noi ha ricevuto nel momento in cui è stato creato e questo tutto ad esempio di Maria. Tutto è ordine in Maria, tutto il suo essere è rivolto verso l'alto, perché vincolato con la luce divina che sempre cresce quando il proprio intimo guarda l'atto di Dio nei suoi atti. La nascita di Maria parla nel silenzio, nell'umiltà, nei cuori, nella costanza, nella finalità con cui la vita terrena deve svolgersi e vivere. Nella celeste di Maria, tutti, se vogliamo attingere, possiamo, le bellezze, in vista di assaporare lo Spirito Trinitario e l'amore che circola tra le tre divene persone. Vogliamo chiudere nel tempo, ma continuare con lo Spirito, le stesse parole di luce di Gesù. Ammira, figlia mia, ringrazia il nostro essere supremo che giunge a tanto amore verso questa neonata bambina da far rinascere in lei la nostra volontà sulla terra che non ha né principi né fine. Deo grazie. 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 Grazie.